Mi permesso? Prego, buongiorno. Buongiorno. Dicami. Allora, senta, io sono venuto qua alla banga perché diciamo che vorrei aprire un conto cointestato. Molto bene. E cointestato con chi? Contestato con chi ha un bel pochi soldini, capito? Sì. Senta. Eh? Deve rivolgersi alla banca che qui, di fronte. Di fronte? Sì. C'è la banca? Di fronte? Non c'è la banca. Appunto. Guarda. Si acconta. Ah, mi devo andare. Certo. Oh, siamo a cacciare. Ma non c'è una banca, capito? Prevato. Una banca che non ha un buongior contestato. Ma che ci concede? Pia. 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 Pia.